Perché anche a noi ci iniziano a leggere, ci iniziano a vedere anche troppo le nostre partite per poterci fermare. Allora dobbiamo anche iniziare a entrare nell'ordine idea e se c'è la possibilità anche di cambiare un po' assetto, se ci leggano troppo bene cambieremo qualcosa, non è che stiamo qua per lavorare e cerchiamo di fare il massimo per poter portare in fondo la baracca. Forse e Maniero stanno bene da quello che vedo, spero che continuino a stare bene. Poi siamo contenti di aver sbagliato, questo va dato merito a chi ha fatto questa squadra che non sono io. Non ha sbagliato niente sulle persone, io non parlo di giocatori, ma le persone sono belle persone che ci sono lì dentro. Che è una componente importante, non sempre sono tutti allineati così, chi sta fuori ride e dà una mano a chi gioca, abbraccia quello che gioca anche nel suo posto. E' entrato Dossena, io penso che Dossena abbia fatto una signora partita, no? Dossena deve lavorare, per come lo vedo io il calcio. Io dico che Alberto si è fatto trovare pronto, così Rocchi, così altri. Bisogna fare complimenti a chi sta dietro, a chi fa andare al massimo, anche a chi gioca. Perché chi gioca se poi sbagliano le partite vanno fuori. Leoni è un ragazzo che si è messo dentro noi perché eravamo costretti, no? E non è che abbia fatto benissimo, parliamoci chiaro, insieme alla squadra, in quel periodo lì. Poi a me non mi piace portare dietro i tre portieri, la scelta è solo mia. Cioè non è che Leoni ha combinato, anzi Leoni si allena e lo vedo sta anche cercando di migliorare. Però se io mi devo portare dietro i tre portieri, io non sono abituato a portarmi dietro i tre portieri, vado avanti in quella maniera lì, rispetto le mie abitudini. Poi se ho bisogno convocherò Leoni. Non c'è nessun tipo di problema con Leoni. È chiaro che il ragazzo vorrà giocare, è chiaro che vorrà venire dietro, è chiaro. Ma le motivazioni sono queste, non mi è piaciuto quando è arrivato, non ha fatto grandissime partite, secondo me deve lavorare molto, deve migliorarsi molto. Il motivo reale è questo, non ce n'è altri. Tutto qui.